Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Esco un po' dai miei soliti argomenti perché stavo leggendo il giornale questa mattina e ho trovato un articolo molto molto interessante del quotidiano La Gazzetta di Modena, un articolo che mi è scappato ieri, quindi stavo rileggendo un po' le notizie tra ieri e oggi, un articolo perché c'è una cosa che sta succedendo un po' in tutta Italia e in questo caso parlano di Modena, parliamo della Gazzetta di Modena, quindi un quotidiano conosciuto qua da noi che parla di questa truffa, però guardando in rete e di fatto questo sim swap è una cosa che sta accadendo in tutta Italia, vi spiego che cos'è perché non lo conosciamo neanche io quindi lo leggiamo insieme per farvi capire meglio, vi metterò nel primo commento il link dell'articolo così potrete andare a rileggere tutto e a ricevere maggiori informazioni. Buongiorno a tutti, le pensano tutte per fregarci e le pensano tutte per fregarci, come sapete tutti utilizziamo il telefonino per farci inviare i codici per entrare dentro soprattutto a livello bancario ai conti correnti e con il codice la banca con questa cosa pensavo di aver trovato un mezzo sicuro per tutelarci, ovvero inseriti le credenziali per entrare nel non banking ci arriva un codice sul telefonino, un codice necessario per poter, da inserire sul portale della banca per poter entrare e verificare di fatto entrare nel conto corrente e verificare la propria situazione. Purtroppo hanno, chiudono un attimo qua che mi stanno suonando e faccio per gli altri. Purtroppo questa frode, questa frode cosa fa? Clona in sostanza le nostre schede telefoniche. Voi direte come fanno? Non è che io me lo sono chiesto. Quindi l'articolo è questo, l'ultima truffa è SIM swap, centinaia di segnalazioni a Modena, però in verità tutta Italia, scritto da Giorgio Guandalini che ha trattato questo tema. Fraude telematica sui telefoni, le banche corrono ai ripari ma non basta. Avete mai sentito parlare di SIM swap? Questo termine indica una delle tecniche più recenti di frode, in italiana letteralmente SIM clonata. È di fatto una sofisticata truffa informatica che a Modena ha fatto centinaia di vittime, quindi penso e presumo anche in tutta Italia. Prima di tutto occorre sapere che attualmente le banche per ragioni di sicurezza oltre alle credenziali di autenticazione mandano sempre, oltre password e codice, un messaggino sul telefonino e questo è fondamentale. Quindi questi si sono inventati una cosa furba, ti clonano le telefono, quindi la SIM per andare a inserire i credenziali al posto vostro. Innanzitutto i malviventi elettronici si impossessano delle credenziali di accesso dei vostri servizi online attraverso il vostro numero di cellulare o la mail. Quindi ce la fanno, quindi loro riescono a avere tramite il cellulare il numero di telefono o la mail e le credenziali di accesso principali. In buona sostanza inviano alla vostra mail o al vostro cellulare un messaggio che appare essere della vostra banca, quindi dovete fare molta attenzione in questa, o di un ente quale ad esempio le poste, tipo poste italiane. Questo è il tipico caso di pishing. Oppure utilizzano altri metodi attraverso attacchi informatici, quindi link malevoli, social media, malware, quindi una volta carpito in questo modo anche il solo codice utente e la mail legata alle vostre credenziali, quindi con il codice utente e la mail legata alle vostre credenziali, iniziano a fare il recupero chiaramente con la mail legata della vostra password. Attenzione perché una volta carpito questo però parte la tecnica della clonazione della sim. Di fatto copiano la sim del vostro telefono su una nuova scheda sim controllata da loro. In questo modo riusciranno ad intercettare gli sms destinati al vostro numero di cellulare, compresi quelli inviati dalla banca per autorizzare i pagamenti. La banca dunque ignara che non sta inviando sms a voi ma li sta mandando a un cybercriminale. Ma questi sono i segnali più comuni per rincorrere. Come fare a capire in sostanza se siete stati clonati o se avete qualcuno che si sta parlando del vostro conto corrente, delle vostre credenziali. Il telefono perde inaspettatamente il segnale, vi sarà mai capitato, quindi fateci caso. E non permette di inviare o ricevere sms o fare chiamate. Questo è un segnale che potrebbe essere stato clonato. Potrebbe ricevere chiamato sms dal vostro presunto operatore telefonico per informarvi di possibilità di problemi di linea, dicendo di non prestare attenzione al malfunzionamento. Potreste anche ricevere chiamate che vi spingono a spegnere il telefono per non essere disturbato. Ma che cosa deve fare il cittadino se pensa o sospetta di essere stato vittima di sim swap? Innanzitutto sembra banale ma controllare sempre e molto spesso il conto corrente per verificare che non ci siano operazioni sospette e delle quali non si ha notizia e comunque non si pensa di aver compiuto. Quindi andare a controllare gli estratti conto online del conto corrente e guardare che non ci siano dei movimenti strani. Contattare immediatamente il servizio clienti per bloccare temporaneamente l'operatività del conto in caso di movimenti sospetti. Anche solo 5 euro, 10 euro ha un pagamento mai fatto, quindi un ente terzo. Contattare quindi immediatamente gli operatori del servizio clienti, i bancari. Ma soprattutto, e qui sta la novità, contattare subito il gestore telefonico per informarlo della truffa. Quindi se avete Vodafone e ritenete di essere stati clonati, chiamate la Vodafone. In questo caso sono noti non cliccare sul link, non inviare codici personali, le comunicazioni alle banche, insomma ci sono varie possibilità di tutelarsi, bisogna stare però attenti, bisogna stare veramente attenti. Mai soprattutto cliccare link strani e mai soprattutto dare la password o il pin del telefono. Paradossalmente neanche la mail personale e neanche il numero del telefonino. Purtroppo questa cosa esiste. Si parla di... si parla di... perché inviano addirittura mail di truffa a centinaia e migliaia di cittadini. Si parla di un 25% dei casi, delle persone sono state coinvolte almeno da un invio di queste mail truffa. Vi sarà arrivata anche a voi. Vabbè, ci tenevo a darvi questa informazione perché l'ha clonato un mio amico e ha dovuto fare un casino, bloccare il telefonino, bloccare a chiudere il conto corrente e cercare il rimborso di soldi che di fatto gli hanno fregato che però non so se riuscirà ad ottenerli. Quindi è veramente una cosa. Ci tenevo a darvi questa notizia perché non è una cosa simpatica. Le pensano tutte per fregarci. E questo perché? Perché stiamo puntando tutto sul digitale, tutto con la moneta elettronica. Il problema è che non siamo pronti. Il problema è che non siamo pronti. È il pishing, dicono. Giovanni dice, Robby, è cosiddetto pishing. Esatto, è cosiddetto pishing. Questo è il pishing. Comunque vi ho messo il link dell'articolo nel primo commento. Potrete rileggere a voi stessi. Rotone di scatole. Rotone di scatole, soprattutto perché? Perché vogliono tutto digitale, vogliono tutto tramite moneta elettronica, carte di credito, banche, conti correnti, ma non sono in grado di tutelarci al 100% perché c'è sempre qualcuno più furbo di chi ha creato il sistema. Ciao a tutti e buona giornata.